Apriamo questa prima edizione con le parole pronunciate da Papa Francesco nel corso dell'udienza del mercoledì trasmessa in streaming dalla biblioteca del Palazzo Apostolico. Il pontefice è intervenuto sulle violenze che stanno contrassegnando le ultime giornate negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto. Il razzismo è un peccato e la violenza è autolesionista. Sono state le parole del Santo Padre che ascoltiamo insieme. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali che stanno accadendo nella vostra nazione in questi giorni a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Oggi mi unisco alla Chiesa di San Paul e Minneapolis e di tutti gli Stati Uniti nel pregare per il riposto dell'anima di George Floyd e di tutti gli altri che hanno perso la vita a causa del peccato del razzismo. Preghiamo per il conforto delle famiglie e degli amici affranti e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui anegliamo. Nostra Signora de Guadalupe, Madre dell'America, interceda per tutti coloro che lavorano per la pace e la giustizia nella vostra terra e nel mondo. Dio benedica a tutti voi e le vostre famiglie.